Interessante, sì, interessante, interessante. Ma che c***o? In tre anni, godo un migliore di visualizzazioni. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Tonico, come ci siete ragazzi? I miei signori, un milione di visualizzazioni in totale in tre anni. In tre anni, vabbè. Che dire? Sto crescendo piano piano. Perché devo ringraziare... Ah, dove è il video? Allora, vi racconto la mia storiella di come ho fatto a fare tante visualizzazioni. Allora, ordina per i più popolari, cominciando dagli effetti sonori. Allora, ho sentito questo effetto sonoro fuori da casa mia, ho sentito uno sparo, sì, uno sparo. E io ho messo l'effetto sonoro sparo di una pistola. Poi, ho sentito delle urla. Cioè, urla che non mi hanno fatto dormire la notte. E quindi ho messo l'effetto sonoro delle urla. Così. Poi, quando c'era un grosso temporale, ma proprio un enorme temporale, ho sentito un tono che ha colpito l'antenna della mia povera casa. E quindi ho detto, sì, carico l'effetto sonoro del tuono. E ho caricato il tuono. Poi, stavo guardando un film, e ho visto che a mezzanotte e mezza faceva... Che film era quello? Non mi ricordo un film di un essere schifoso nelle case. Non mi ricordo che film era, però ho visto il genere horror. Cioè, l'unica cosa che mi ha interessato è leggere informazioni genere horror. E quindi ho pensato, ho pensato, grattando il mio mento senza peli, mi sono detto, adesso carico un effetto sonoro horror. Così. A cazzo di cane, carico effetti sonori, e all'improvviso, dopo due, tre anni, mi ritrovo con tutte queste visualizzazioni davanti. Ok? Ma, prima di questi effetti sonori, io ho fatto questi. Video tutorial, signori miei. Allora, come se ti fai gli antivirus, come ti fai a Windows D, come mettere un po' su YouTube, come se hai caricato la video pad, e poi ho fatto altri tipi di video tutorial, come le migliori canzoni, la città San Andreas, questo video che stava a 7000, adesso mi ritrovo in una settimana a 800 visualizzazioni in più, cavolo. Effetti sonori horror, sì, questo. Poi, c'è Bandicam, c'è Office, c'è San Andreas, di nuovo. Cioè, ragazzi, io mi sono impegnato veramente. Allora, ragazzi, se volete continuarmi a supportare, per me va bene, non c'è problema. Ma se volete vedere quanto guadagno su YouTube, cioè, vi faccio vedere direttamente le mie entrate, stimate, in sei mesi, perché ho tutto guadagnato attraverso questi video, cioè i video più popolari, i video monetizzati, e poi vi spiego anche come monetizzare i video e guadagnare parecchio, se a voi mi interessa. Quindi, grazie tante per questa visione, ragazzi, grazie tante per questa visione. Cioè, ringrazio veramente a tutti quelli che mi hanno seguito, a tutti quelli che hanno... comunque io gli iscritti ancora non li faccio vedere, ancora una sorpresina, quindi, silenzio, mi raccomando. Quindi, grazie tante anche per queste visualizzazioni, gli iscritti che ho guadagnato. il mio canale sta crescendo piano piano, io spero e spero che continui così, perché noi ci rivedremo, non lo so, domani, prossima settimana, ma comunque lasciate like, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi con la campanellina, mi raccomando, commentate se il video vi è piaciuto. Quindi, ragazzi, ciao! Ciao!